Volkswagen presenta l'ultima evoluzione del multivan, l'iconico furgone del marchio tedesco in grado di scrivere la storia del segmento si aggiorna portando tecnologia, versatilità ed anche l'elettrificazione. Ad un primo sguardo è evidente il passo tecnologico compiuto da Volkswagen, che in questo nuovo multivan porta tutta la tecnologia del gruppo, sia a livello estetico che sul piano della sicurezza. Una linea più morbida, in grado di aumentare il coefficiente aerodinamico e donare un look più moderno, ne caratterizza lo stile, mentre la nuova firma luminosa lo proietta nel presente, riprendendo in modo originale gli stilemi del marchio. È però all'interno che la rivoluzione ha inizio, la versatilità è al vertice della categoria. Sette sedili singoli scorrono su pratiche guide, per organizzare lo spazio a piacimento e vivere al meglio l'abitacolo. Il posto di guida poi si avvicina per stile, funzionalità e posizione di guida ad una berlina, facendoci quasi dimenticare la stazza del veicolo, nonostante l'altezza permetta una visuale ampia libera da ostacoli. Vista la propensione a lunghi viaggi e utilizzi professionali, Multivan porta tutta la tecnologia presente del gruppo Volkswagen, con due schermi grandi a dominare la plancia ed un pacchetto di ADAS all'ultimo grido. Anche sotto al cofano non mancano le novità. Troviamo infatti due motorizzazioni disponibili, in grado di soddisfare sia gli amanti dell'avventura, sia chi ha bisogno di tanto spazio per la città. Al propulsore diesel si affianca infatti una versione ibrida plug-in, per rispondere alle richieste del mercato attente all'ambiente. Due soluzioni che coprono ogni fascia d'utenza e ben si sposano con la filosofia votata all'avventura, anche sostenibile, di questo nuovo Multivan.